Ciao, sono Francesco Bontrone e sono l'esperto di Baoba per le Maldite. Oggi vi parlerò dell'hotel Villa Parco. La struttura si trova nell'atollo di Aria Sud, quindi a 110 km circa dall'aeroporto internazionale di Malè, con il quale è collegata tramite voli domestici, quindi un collegamento in un volo domestico di una ventina di minuti circa, più un piccolo tratto di barca veloce di una decina di minuti che vi porteranno direttamente su quest'isola, che è una delle isole maldiviane più estese, si estende per circa un chilometro e mezzo di bellezza naturale, quindi c'è questa lunga striscia di sabbia, orlata di palme, di vegetazione tropicale e con un mare assolutamente da sogno. Quindi parliamo veramente del non plus ultra per quanto riguarda il contesto naturale. La struttura, conosciuta storicamente sul mercato italiano con il vecchio nome di Sun Island, quindi oggi Villa Parc, è oggetto di un profondo restyling che appunto sta avvenendo all'interno della struttura e che presenta già buona parte delle camere ristrutturate, così come gli ambienti comuni. Quindi si ripropone prepotentemente sul mercato italiano, caratterizzata sicuramente da un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'hotel si evidenzia per una serie infinita di attività sportive non a disposizione per i clienti, quindi ogni giorno, giornalmente i clienti non avranno che l'imbarazzo della scelta, tra palestra, tennis, beach volley, basket, squash e sporti acquatici come catò, canoa, catamarano, windsurf, quindi sport acquatici motorizzati enormi, quindi veramente un ampio ventaglio di scelte che non vi faranno sicuramente annoiare durante l'arco della giornata. La struttura presenta diverse tipologie di camere, quindi partendo dalla categoria, dal prezzo base, quindi che è costruito sulla categoria Sun Villa, con vari upgrade possibili di prezzo, quindi le Beach Villas e fino alle Lagoon Beach Pool Villas, che sono le ultime nate, le ultime ristrutturate, quindi sicuramente quelle più moderne. Quindi il cliente che voglia soggiornare o comunque avere la possibilità di soggiornare in una camera assolutamente moderna, con un supplemento c'è la possibilità appunto di accedere in queste camere che tra l'altro hanno, oltre ad essere di fronte al mare, hanno anche una piccola piscina privata, quindi assolutamente eccellenti. Come dicevo i servizi sono assolutamente molteplici, tra questi mi sento di segnalarvi sicuramente anche il mini club, che è uno dei più grandi, se non il più grande in assoluto, di tutte le Maldive. Lo chiamano Park Players, appunto con una grande piscina privata e degli spazi interni enormi, assolutamente molto ben attrezzati, con una moltitudine di servizi dedicati ai più piccoli e appunto attività creative curate dall'animazione internazionale della struttura. Quindi assolutamente consigliabile, rientra certamente nella nostra linea deluxe. Bene, con questo è tutto, se il video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, non dimenticatevi di mettere un like. Ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!